Ben ritrovati cari amiche, sempre in diretta su QVC, io sono Silvia Cavalca e parliamo di lusso in quest'ora, parliamo di gattinoni, quindi chiamateci come ha fatto Pinuccia se conoscete questo brand che è la Roll Royce della moda. Io intanto vi presento il direttore commerciale della linea Gattinoni Roma, il nostro Andrea, buongiorno, ben ritrovato, grazie, buongiorno al pubblico che ci segue da casa. E vediamo delle anticipazioni di corda, molto bello anche l'equilibrio, adesso che lo indossi Silvia, anche l'equilibrio, l'armonia che ha questa segmentazione della fasciatura tra sughero, pelle, la pelle, eccolo qui lo vediamo in dettaglio. E da inizio secolo, ne ha ora Andrea, quindi grande entusiasmo, sapete che l'attesa è gratuita ma soprattutto sulle scarpe dove ci sono delle taglie per i numeri, il rischio è che finiscano. Rimanete lì, scegliete il... Quando indossi la scarpa, veramente è come se poggi i piedi nella sabbia, è molto molto conforto. Piacevole. 844 00, raccontateci il lusso gatt... Guardatele, io vi dico solo questo, guardatele e indossatele. Parliamo di Gattinoni Roma. Io sto indossando la proposta rossa, che è finito nel modello precedente di décolleté simile... Sì, sì, lo voglio, perché poi so che va a finire male, il primo stand lo sta finendo tutto, non voglio rischiare di perdere questa, perché con meno di 50 euro fare il mio lavoro, no? Che è darti i tempi e i cambi prodotto, però sto al telefono per te perché c'è attesa e io non voglio perdere questo 37. Beh, Sonia, io ti ringrazio. È meraviglioso, cioè sono di una bellezza queste scarpe, che è altro che 50 euro. Sì, verissimo, molto vero e... Il paccio è il collo del piede. Siccome il rosso, buongiorno Radka, è finito nel modello precedente, quello da 11 centimetri, questo è un 10 centimetri, ma il 39 è già limitato nel rosso. 49,90 euro per una scarpa... Cioè, allora, guarda il collo del piede, scusami, io amo le scarpe, sono fissata, ma so che non sono l'unica, sia di donna che di uomo, perché, insomma, tanti maschi fanno attenzione. È la décolleté classica, quella elegante, con la punta affusolata, che slancia il piede anche più importante, quindi lo affina, con il tacco sottile. Si vede per me che è larga, perché questo è un 38, infatti mi sono presa il 37, e anche dietro, quando tu lasci il ristorante, l'ufficio, la stanza, e hai l'oro gattinoni Radka. Bellissimo, ecco. Nero e rosso, cioè di 59 centimetri, a 59,94 euro. Questa variante, eccola qui, che è il nero, bellissimo, perché è un nero lucido, effetto bagnato, giocato a contrasto con l'oro, sia sulla parte verticale che sul logo, ed è stupido. Buongiorno! Buongiorno, conosci i gattinoni? Guardi, è la prima volta che l'ho visto, questa mattina. Cosa ne ho? Sì, ho 41. Ok, allora direi di sì, io al mezzo numero, sul mezzo numero ti avrei detto decisamente quello in più. Anche perché non è disponibile il numero 42. Certo, 42 non esiste, quindi comunque ti conviene provarlo, perché se ti va bene, va bene, se no puoi cambiarlo e avere i soldi, però è stupenda. No, quello sì, anche perché ho fatto anche dei resi, e mi sono trovata benissimo, siete sempre, diciamo, stati seri, gentili, complimenti, perché proprio vi guardo sempre, da un po' di anni. Grazie mille, sei il tesoro, Narita. Grazie, un abbraccio, ti mando un bacione. Siete in tantissime in linea. Io vi faccio vedere questo. È ben centrata e firma bene l'avanzare del piede, ecco. È meraviglioso, e anche l'accetto alla caviglia non taglia la caviglia. Vedete che rimane volentieri a braccio, come fa la nostra radca nel nero, o a mano, a spazio. Buongiorno, conosci i gattinoni? Guardi, è la prima volta che l'ho visto, questa mattina. Cosa ne...